Lo Spezia vola in Serie A per la prima volta in 114 anni di storia, superato il Frosinone. Nei play-off, la squadra Ligure raggiunge la massima serie insieme a Benevento e Crotone. Ed è stata una notte di festa alla Spezia. Clacson, fumogeni, bandiere bianconere, caroselli in strada. Dopo 99 minuti, recuperi compresi, esplosa la gioia fuori dal picco, in Piazza Europa, in tutta la città. Una notte di festa senza distanziamento sociale, come avvenuto in tutti i festeggiamenti post-triumph in Italia, con migliaia di persone che si sono riversate in strada con la sola voglia di abbracciarsi e festeggiare. Solo in pochi con la mascherina, zero distanziamenti.